Ciao! Pronto? Giampiero! E' sto qua a Villasegni! E vedi che roba, ma voi intervenivo, provvedevo, vuoi fare qualche cosa? Ah ma non sai più il sindaco tu? E chi è il sindaco? Allora devo telefonare in tre volte. E vabbè, ora lo chiamo qua. E qua c'è questo fiume, ma serve una parca per attraversare. No, no, lo chiamo subito, guarda, lo chiamo subito. E' un macello qua. E dice là che è un bene prezioso. E porca della miseria, guarda quanto ne esce. Vabbè, te saluto, lo chiamo subito.